Lorella Boccia fa una rivelazione sulla danza. C'è molta competizione. Lorella Boccia, apprezzatissima ballerina uscita fuori da amici ed oggi conduttrice del programma televisivo Venus Club, ha rilasciato un'intervista al settimanale Confidenze durante la quale ha tracciato un po' una linea sulla sua vita e sulla gravidanza che sta portando avanti, soffermandosi però anche sul lavoro, in particolare sulle differenze tra la televisione e la carriera nella danza. Condurre una trasmissione ha qualche vantaggio rispetto a essere una ballerina. Meno mal di schiena e niente lividi sulle gambe. Però, entrambe le professioni impegnano corpo e mente. In passato, nel mondo della danza non è stato facile mantenere buoni rapporti con le colleghe. C'è molta competizione. Lorella Boccia racconta Venus Club. Uno show al femminile. Lorella Boccia si sta cimentando nell'esperienza da conduttrice su Italia 1 col programma Venus Club, su cui ha detto di dover ringraziare Maria De Filippi uno show al femminile che ha come obiettivo quello di sensibilizzare su argomenti ancora oggi considerati tabù, in particolare dell'universo femminile. Al settimanale Confidenze, Lorella Boccia si è soffermata proprio sullo show, spiegandone la struttura e gli obiettivi, raccontando. Venus Club è uno show pensato tutto al femminile, per dimostrare la forza delle donne in ogni sua sfumatura. Affrontiamo anche argomenti tabù come la disforia di genere, cambio di sesso, o il piacere sessuale femminile, un argomento di cui si parla poco, pur essendo importante. Attorno a noi ci sono atlete, contorsioniste, campionesse di pole dance. Lorella Boccia è la vita privata con Niccolò Presta. Ad ottobre diventerò mamma. Per Lorella Boccia la vita professionale procede a gonfie vele di pari passo insieme a quella privata. La storia d'amore insieme al produttore televisivo e marito Niccolò Presta, infatti, non potrebbe andare meglio e la conduttrice si appresta anche a portare a termine la gravidanza. Come raccontato a Confidenze, non vede l'ora. Ho anche un altro motivo per festeggiare. A ottobre diventerò mamma. Io e Nic stiamo insieme da cinque anni anni e dal primo mese di fidanzamento abbiamo iniziato a parlare di un figlio. Lui lo desiderava da tanto, ma io ero sempre impegnata con la danza e non sembrava mai il momento giusto. Poi, ho iniziato a preparare Venus Club. I ritmi sono cambiati e dentro di me è maturato il desiderio di maternità.